Antonio Vota cosa ne pensa dei problemi che sta creando l'applicazione Pokemon Go? Il problema dei Pokemon è un po' problema In che senso? E chi non ci sa, ormai, qui chi è, che si potesse scramarti Ciao Pi, ciao Ka, ciao Ciù Chi saluta? Ciao Pi, Ga, Ciù Secondo lei, si stava meglio prima senza tutta questa tecnologia? Prima con Nandy era festa, ora pare che anche se stava fone, ci sta tutto in destra Forse No, come mia E' già qua, un'è D'ora c'è qua in più 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 Ancora sto ripogliano, è il super gioco che poi mi vedono La stuta, la stuta Se il mio video ti è piaciuto, clicca su mi piace e condividilo su Facebook Tu un DJ, imitatore, fantasista Insomma io non saprei come definirlo, Angelo J D'ora c'è qua in più D'ora c'è qua in più